eccoci qui prima metà la partita è un prudinese 0 a 0 mamma mia direi che è cominciata abbastanza male sta giornata delle campionate una noia mortale scusate la voce ma sto più tritato che mai comunque 0 a 0 parita bruttissima abbastanza brutta forse tra le due a meno peggio l'empoli che negli ultimi minuti ci ha provato abbastanza ma secondo tempo soprattutto penoso primo tempo qualche occasione da ambo le parti ma direi che il pareggio abbastanza giusto così come l'anno al 2 e mezzo e quindi malissimo sta parete la vita come la peste infatti per carità e quindi niente adesso ci sarà al sassuolo solo ecce e lì secondo me ci si diverte molto di più attenzione al marcatore andrà fino a monti che secondo me può fare gol e soprattutto può essere una parita molto molto più piace di questa sinceramente mi è piaciuto diciamo tra i migliori baldanzi e samarzic però è evidente che soprattutto all'udinese manca un attaccante senza attaccante insomma da nessuna parte hanno venduto beto e tanti saluti al secchio l'udinese la stessa cosa udoge anche tu lì dietro sente la mancanza secondo me come dicevo prima bene baldanzi ottimo giocatore secondo me fra qualche anno lo vedremo in qualche big sicuramente ottimo giocatore quello e quindi niente puntamento ad up per lecce sassuolo secondo me pronostico io metto gol over sarà una parita molto vivace e secondo me dopo seria è molto molto imprevedibile un po come la roma e quindi niente udinese che va a cinque punti l'empoli che va a quattro punti mi dispiace per mister sottilla udinese la vedo abbastanza male quest'anno si è rinforzata davvero malissimo anzi si è rinforzata quasi per niente secondo me si è indebolita parecchio e quindi stessa cosa l'empoli molto molto mediocre come squadra ho detto che nelle previsioni della classifica avrebbero fatto molto fatica soprattutto l'empoli forse l'udinese se potrebbe tirare fuori ma è ovvio che servono vittorie perché sennò non ti tiri fuori mai e quindi niente appuntamento a dopo